Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Poi tra l'altro vi spiego anche una cosa che riguarda il canale, i commenti, le visualizzazioni e tutto quanto. Quindi ascoltate il video perché poi durante il video vi spiegherò anche queste piccole cosine che riguardano proprio il canale. Oh, quindi partiamo subito con il primissimo argomento. E' saltato fuori un altro cavillo, un altro cavillo da risolvere per quanto riguarda la residenza in Italia per poter apprendere l'assegno unico per i figli. E poi più avanti ci agganceremo anche al discorso di reddito di cittadinanza perché questo argomento praticamente viaggia pari pari con quello che era già successo con RDC qualche tempo fa. Partiamo da un pochino da lontano per capire. Se vi ricordate il decreto legislativo che stabilisce tutte le regole e le norme sull'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico dice in pratica che questa misura di sostegno spetta anche agli stranieri a patto però, ecco è qui, a patto però che soddisfino determinati requisiti. E poi va avanti dice inoltre l'assegno unico e universale per i figli non spetta per i figli che non risiedono nel territorio italiano. E uno dice vabbè fino a qui la cosa ci potrebbe stare, giusta perché uno viene parte da non so quale stato oltre oceano, viene qui, dice richiede l'assegno per i figli, i figli invece abitano tutti da un'altra parte, prende i soldi in Italia e si porta via i soldi. Quindi dice questo ragionamento in teoria potrebbe essere giusto perché vale per l'Italia, no? Quindi tu risiedi in Italia, vivi qui, lavori qui, spendi qui e i figli devono stare qua, no? Giusto. Però, però, c'è un però, ecco. Ed è proprio su questo punto che la Commissione Europea sta decidendo, non decidendo, sta dicendo, ecco sta dicendo, che questa cosa qua non va bene perché pare che queste regole che hanno messo per l'assegno unico sarebbero in pratica discriminatorie nei confronti di tutti quei lavoratori di altri stati dell'Unione Europea che si sono trasferiti da poco in Italia e che comunque dovrebbero mantenere la famiglia residente in un altro paese. Quindi in pratica pare di capire che secondo la Commissione Europea queste regole sono troppo stringenti e violerebbero le norme comunitarie. Ecco appunto, ecco allora che pare si sia aperto un altro contenzioso che riguarda il sostegno al reddito delle famiglie e come vi ho detto prima, come vi ho detto prima, riguarda un po', è successa la stessa cosa anche qualche tempo fa con il reddito di cittadinanza perché anche in quel caso c'erano delle regole troppo stringenti sul requisito della residenza dei dieci anni. Se vi ricordate qualche, non so, forse, non ricordo esattamente la data, forse a inizio anno 2024, fine 2023, insomma quando poi è stato tolto il RDC, era saltato appunto fuori il discorso che chi non era residente in Italia da più di dieci anni non poteva avere il reddito di cittadinanza. Qui invece se non sei residente per più di tre o cinque anni, adesso non ricordo la storia della residenza esatta per quanto riguarda l'assegno unico, anche qua non si può prendere l'assegno unico, quindi alla fine questa commissione europea viene sempre a discutere sul fatto delle nostre regole che sarebbero troppo stringenti. però c'è anche da considerare il fatto che la coperta è quella, la coperta è quella, quindi se tiri troppo la coperta si scoperchiano i piedi. Quindi a un certo punto anche il governo italiano fa delle regole, impone delle regole che possono andare bene per tutti quanti e soprattutto devono guardare anche questi. non è che qui c'è il posto di San Patrizio che uno va lì e prende e può pagare tutti quanti. Se mettono determinate regole e chiedono determinate residenze, un motivo ci sarà perché altrimenti cioè cosa facciamo? Arrivano tutti qui, prendono tutti i soldi da qui dall'Inps, poi se ne vanno via e noi che stiamo a fa. Quindi di nuovo commissione europea che praticamente viene a guardare quello che facciamo qui in Italia. Cambiando argomento parliamo adesso del discorso delle visualizzazioni e dei commenti. Io vi ho sempre detto che appunto YouTube in questo periodo sta buttando giù tutti i video e quindi vi chiedo di commentare qui sotto nei commenti, quindi andate qui sotto, aprite i commenti, aprite la tastiera, commentate con un sole, con le emoji, con le emoji, l'icona del sole per fare in modo che YouTube capisca che questo video vi è piaciuto e quindi aumenta un pochino le visualizzazioni perché ultimamente sta buttando giù i video, non solo a me, ma a tutti quanti, li sta praticamente buttando giù a tutti. Quindi se voi commentate, anzi non se, commentate qui sotto con l'icona del sole in modo che YouTube capisca che vi è piaciuto e magari non si tiene questo video nascosto e lo fa a vedere anche a qualcun altro. Poi ricordatevi anche il discorso del super iscritto. Da 5-6 mesi sto dando la priorità ai commenti dei super iscritti. Come fare per diventare super iscritto è facilissimo, veramente molto facile, basta che andate qui sotto nella info box, attenzione non nei commenti ma nella info box e cliccate sul primo collegamento che trovate oppure se vi viene più comodo basta che andate nella home page, qui nella pagina principale del mio canale sotto il mio nome c'è un collegamento, voi cliccate su quel collegamento si apre un menu e lì scoprite come diventare super iscritto come entrare nella super chat, come mettersi in contatto telefonico con me insomma ci sono varie opzioni e i super iscritti hanno la priorità assoluta nei commenti tra l'altro poi da settembre quando ricominceremo anche le dirette live i super iscritti hanno la priorità assoluta all'interno della chat perché i loro commenti sono messi in evidenza rispetto a tutti gli altri quindi quando ricominceremo con le dirette live praticamente i super iscritti avranno la priorità alle risposte delle loro domande cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione parliamo un pochino della carta dedicata a te perché ormai siamo quasi agli sgoccioli e così a partire dal 14 di agosto sono state create le graduatorie con tutti gli elenchi delle persone beneficiali che ne avranno diritto e che a questo punto saranno considerate valide del discorso della carta dedicata a te questo punto ne parleremo anche un pochino meglio all'interno del prossimo video qui è solo per annunciarvi il fatto che appunto dal 14 di agosto sono stati creati questi elenchi di persone che avranno diritto alla carta dedicata a te e che quindi riceveranno questi soldi questo bonus, questi money non so come definirvi e capiremo anche perché ve lo spiegherò poi meglio all'interno del prossimo video capiremo anche come arriveranno i soldi chi saranno le persone interessate come si farà per avere la carta chi ha già la carta cosa deve fare chi non ha la carta cosa deve fare quindi capiremo meglio tutto quanto all'interno del prossimo video bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao 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 ciao